Buongiorno, oggi vi voglio presentare la focaccia con il levito madre, una merenda perfetta, ottima da sola e ancora più buona, accompagnata con dei salumi o delle verdure grigliate. Iniziamo con... In una ciotola versiamo 400 ml di acqua, poi aggiungiamo sopra anche 12 g di levito madre, 8 g di sale e un cucchiaino di miele. Diamo una mescolata, aggiungiamo anche qualche cucchiaio di olio e poi iniziamo ad aggiungere la farina, avremo bisogno di 500 g di farina del tipo 1. Con l'aiuto di una spatola iniziamo a impastare perché l'impasto sarà morbido, appiccicoso. E lo lasciamo a levitare a temperatura ambiente per un paio d'ore, il mio ha levitato circa 6 ore. Poi prendiamo una teglia, versiamo dell'olio. Dopo poniamo l'impasto in mezzo alla teglia, versate ancora dell'olio sopra e con le mani stendete l'impasto su tutta la superficie. Dopo lasciatela levitare per un'ora a temperatura ambiente. Trascorso il tempo, aggiungete sopra del rosmarino e del sale grosso. Poi scaldate il forno e lo potete infornare a 200 gradi per 30-35 minuti, fino a quando sarà bello dorato sopra. Una volta trascorso il tempo, sfornate la vostra focaccia, fatela intipidire e la potete servire ancora calda, sia sola che accompagnata con qualche salume. Buon appetito, grazie per la condivisione e per il like. Ciao! Ciao!